Amanti della Sunrise, oggi parleremo di ZAMBO 3, Showking Damacy GX 23. Ma come? È da 15 anni che in giro sta a fare, si ho capito, perfettamente ragione, tra l'altro oggi sarà la solita review molto amatoriale, presenterò principalmente solamente il contenuto della scatola, ma perché decido di fare questa review qua? La ragione è molto semplice, perché in questo momento, proprio adesso, in Giappone è stata messa in vendita la versione Showking Damacy Full Action di ZAMBO 3. E allora è venuto in mente di, che non ho ancora, e forse non comprerò neanche avendo già questo, di paragonarlo con questo vecchio GX 23. Io proseguo anche lo GX 81 con ZAMBASE, che è solamente la parte superiore, di forma ZAMBO 3, il robot del protagonista. Farò vedere fuori anche un po' lui per paragonare un po' i due prodotti. Comunque oggi il protagonista è questo qua, per cui tu ti levi di parte, per un po'. Ok. Beh, ZAMBASE 3 non ha bisogno di presentazioni. Questo è il cartone animato che in Giappone ha creato, voglio dire, un sacco di... è stato veramente uno spartiacque tra i super... questo è un super robot come era fatto. Però veramente, tra il classico cartone animato per bambini, è un cartone animato veramente pesante, tragico, che faceva pensare più pensato, se vogliamo, per adulti. Si parla sempre di Gundam, della rivoluzione tra super robot e robot, ma questo ZAMBASE 3, che è venuto prima di Gundam, è stato un cartone animato spartiacque per il genere dei robot, e anche per i cartoni animati, tra virgoletti, non solamente per ragazzi. Quello che se vuoi è un po' spianato la strada, al genere che a noi piace tanto adesso. Cioè i cartoni animati non sono solamente per mocciosi, cosa che una volta anche in Giappone veniva concepita così invece. Ok, adesso torniamo, lasciamo perdere i discorsi difficili e torniamo a vederci questo bellissimo GX 23. Io purtroppo col fatto che ho dovuto traslocare un sacco di volte una pletora di miei vecchi robot che hanno ancora tirato fuori dalle scatole, che mi tengo, perché magari in futuro potrò tirarmi fuori, godermeli, eccetera. Sono ancora nelle scatole, però va bene così. Purtroppo la scatola è un po' mezza vecchia, distrutta, eccetera. Però comunque facciamo una bella presentazione. Abbiamo il nostro ZAMBASE 3, con i tre robot che lo formano, quei tre mecca che lo formano, che sono ZAMBARD, ZAMBUR e ZAMBASE, più questo ZAMBARD che si trasforma in ZAMBASE. Qua c'è ZAMBASE e questo è ZAMBASE. Cioè veramente fa una confusione di nomi che la metà basta, ma va bene lo stesso. E questo ZAMBASE è importante perché nell'ultima puntata questo ZAMBUR e ZAMBASE fanno subito Aramengo, che crepano anche i piloti, eccetera. E rimane solamente alla fine questo ZAMBASE. Per cui nella puntata finale non è che rimane il robot completo, forte, eccetera, che combatte. No, rimane solamente una parte. Per cui è importante questo ZAMBASE. Guardiamo, torniamo alla parte, come si chiama, la parte di facciata di questa scatola e vediamo che, vabbè, veramente fatto bene, eccetera. Tra l'altro questo ZAMBASE una volta fece la Bandai una confezione solamente a parte, con questo modello qua vecchio. Qua se vediamo qua di lato abbiamo ZAMBASE 3, una posa fighissima. E poi qua, la parte dietro della scatola, che ci ricorda veramente le vecchie scatole di giocattoli di Chogo King, che erano bellissime, con questa fase di agganciamento. Abbiamo qua che viene presentato ZAMBASE con tutte le sue armi. Pensate, questo è un Chogo King, penso 15 anni fa, ma avevano tutta questa minuzia di mettere le varie armi, con anche veramente la cintura, tra virgolette, la pistolero di ZAMBASE. E non solamente la versione pistola, ma anche potete assurare la pistola in fucile con tutte le parti. E poi le varie armi di ZAMBandinRA Le varie armi di ZAMB began APPLAUSE ZAMBOTO KATTA, ZAMBOTO BROO, ZAMBOTO GRAPPO e poi, ovviamente, l'attacco lunare, che ai tempi mi ricordo che qualcuno pensava che fosse una scoppiazzatura dell'attacco solare invece era contrario se vogliamo perché Zumbot 3 è più vecchio di Daitan 3 e poi lo Ionkianon che diciamo è una soluzione di fortuna che adottano veramente solo nelle ultime puntate collegano in qualche modo il Zumbot 3 con questo mega cannone e lo usa solo una sola volta il fatto che il Superbot Tizen è diventato un'arma che viene fuori come un'arma che si può che Zumbot 3 può usare sempre una volta stage e ti sembra diventato un'arma normale ma invece è un'arma che usa solamente una volta ma è incredibile che anche questa è dentro la confezione ok adesso dai apriamo la nostra confezione aprendo la confezione ci troviamo dentro due bei blocchi in polistirolo che si incastrano sembra tetris così bei blocchi di polistirolo non tutti in blister plasticaccia come adesso e vediamo prima la parte sotto e come vedete è la parte che ha dentro il piedistallo le varie armi e vari tipo di ali le trivelle per zambul i due tipi di effetto per l'attacco lunare poi quello che ho il cannone ionico lo ionchiano che ho presentato prima che è enorme poi qua a sinistra abbiamo la parte superiore che sono tutte le varianti da mettere quando Zambar diventa e Zambo Ace la cintura del pistolero le varie cose le varie mani versione pugno versione aperta eccetera 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 in più questo le varie lame per zambo 3 più una se ne uscita di posto mica niente però c'è ok e allora andiamo a vederci la parte principale cioè dove sono dentro i mecha che formano zambo 3 eccoci qua a togliere il coperchio viene fuori questa meraviglia abbiamo Zambes Zambardo e Zambul tutti ormai in modalità agganciamento io avrei preferito sinceramente che fossero tutti in modalità mecha singolo poi da trasformare con una bel quelli che si usavano nei vecchi giocattoli è un bel foglio qua con scritto bello visivo bello un po' pacchianazzo con scritto qua Zambes Zambul Zambar secondo me era più coreografico e più bello però comunque va benissimo così e ragazzi è estremamente pesante specialmente questa parte qua a sinistra dove sono hanno Zambes che fanno le gambe di Zambul 3 che sono è un pesante veramente è un macigno i vecchi chowokindamasi erano veramente tosti come volume e anche come materia adesso sono molto più plasticaccia è ok così e poi vediamo anche qualche arma e le varie parti che magari non si mettono durante la modalità combinata come i cingoli di Zambul e poi abbiamo tre tipi di mano la mano aperta la mano un po' chiusa e la mano a pugno cosa bella che nonostante sia una cosa di un prodotto ormai di 15 anni fa tirando fuori dalla polistirolo non c'è niente che si appiccichi se qualcuno possiede il Shinseki Go-Kin fuori dalla Oshima che sono bellissimi per massicci eccetera la linea che hanno fatto con Mazin Kaiser e il generale nero di 15 anni fa quella è molto bella ma purtroppo i pugni si incollavano veramente al polistirolo se si lasciava dentro troppo senza tirarli fuori questi invece questi problemi non ce li ha veramente stupendo alla fine facciamo il confronto qua il GX81 Zambo S eccolo qua e vediamo qua è in versione aereo qua è in versione Zambardo e qua in versione Zambo S che si sta agganciando per cui non possiamo fare un confronto pieno però basta vedere i piedi dove ci sono dentro i posti di pilotaggio vediamo benissimo che l'ultima versione che è stata venduta è molto più grossa se ci fosse a questo fatto uno Zambo 3 con 3 meca così sarebbe stato veramente una cosa alta 30 cm bellissima eccetera beh comunque anche questo è stupendo ragazzi ha veramente una qualità del dettaglio che è fantastica pesantissimo agganciato sono potrebbero essere 23-24 24 cm che è tipo coso è un masterpiece transformer ed è comunque molto più grosso della versione che uscì da ultima il Chogokin Damacy in action io per me i robot come Zambardo 3 devono essere fatti in modo che si agganciano poi è inutile anche se non si muovono tantissimo io li devo mettere così a proposta nella mia bacheca un giorno a me va benissimo così se qualcuno appassionato come me di questo tipo di robot magari col fatto che è uscita la versione nuova questo magari verrà anche magari un po' svenduto ad un prezzo ragionevole per me se qualcuno di voi se lo può voglio dire può fare in modo di averlo io lo consiglio tantissimo perché secondo me è stupendo e anche io quando avrò tempo e specialmente spazio dove metterlo non vedo l'ora di metterlo di metterlo in bacheca ok ragazzi finisce qua così grazie per la visione e così ci vediamo alla prossima prossima volta ciao ciao